Voi sapete come me che non c'è pacchia che tenga, voi sapete come me che non sono in crociera, voi sapete come me che non ci sono i taxi del mare, voi sapete come me e come i nostri nonni che sfuggono dalla miseria, dalla fame, in ricerca di una possibilità di vita migliore. E smettetela di dire che no. Ne abbiamo bisogno, peraltro, ma non voglio insistere su questo. I 6 milioni di immigrati legali oggi producono l'8% del PIL. Sono contributori nette all'Inps. Non è vero. Chiedete a Confindustria, chiedete a Confapi, chiedete alla Fondazione Moressa, chiedete all'ISMO. Quindi non si svuota un oceano con un secchio. La mobilità è globale e non la fermerete certamente voi. Colleghi, che stanno succedendo? Stiamo in discussione generale. Stai parlando una collega? Colleghi, senatore, la prego di facere. Non costringetemi a richiamarmi singolarmente. Colleghi, io so che in quest'Aula tutto mi è ostile, salvo contavo sulla vostra personale cortesia democratica. Non è possibile che un'unica o pochissime voci che sono in disaccordo debbano ottenere minacce, insulti e mancanza di rispetto anche in quest'Aula. Ho finito, signora Presidente.